Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi torniamo a parlare di videogiochi e volevo recensire un altro titolo che mi hanno mandato ormai già da un po' di tempo E che, non trattando più videogame sul canale, o meglio, non facendo più gameplay nel live su Twitch Sempre collegate appunto ai videogiochi, non era ancora riuscito a trattare e ci voglio fare un cosa ne penso Parliamo di Handlet Lose, al momento in versione coperta dalla mia webcam Non si vedrà comunque in Early Access, versione 1.8.1 Che, insomma, è una versione abbastanza stabile, non dico quasi finita, ma sicuramente completa nei contenuti E un gioco che rivaleggia a livello di utenza, ma secondo me in alcuni punti supera anche quella di Battlefield Un gioco a metà la strada, tra il gioco puramente arcade, come appunto Battlefield E il simulativo, come potrebbero essere Arma o anche Post Scriptum Post Scriptum, che porterò come video successivo sul canale Diciamo che questa è la giusta via di mezzo tra un Battlefield e un Post Scriptum Ve ne parlo a breve, dopo la sigla Hell Let Lose della Black Matter, come detto, è un gioco che farà felici tutti gli amanti di giochi simulativi Tutti gli amanti di giochi un pochino più arcade, ve l'ho detto, alla giusta via di mezzo Ma soprattutto tutti gli amanti del gioco cooperativo e di squadra Perché in questo gioco la comunicazione del gioco di squadra è tutto Quaggiù è in lista, ci sono tutti i server che ora vi faccio vedere quanti ce ne esplodono di utenza Veramente, secondo me siamo a livelli di Battlefield, forse a volte anche di più E ci sono le varie classi che possiamo scegliere in gioco con tutte le cose che sbloccheremo Vedete, tipi di elmi, tipi di facce, tipi anche di uniformi C'è il comandante, che è il comandante in capo delle forze in campo della missione che andrete a giocare L'ufficiale Rifleman, l'Assault Per poi passare al medico, che è quello che sto usando io E addirittura ci sono lo Sniper e lo Spotter Per il car armato, per i mezzi Ci sono il Tank Commander e il Crewman, l'equipaggio Mentre invece per il Recon c'è lo Sniper, vero e proprio il cecchino Guardate, bella, che sta divisa qui, spettacolare E lo Spotter, che è quello che spotta i nemici C'è sempre in guerra, ma c'è anche oggi L'avete visto anche nei film, quello con Chris Kyle Ciò va sempre accanto a uno Spotter, che ha una duplice valenza Uno, di trovare i bersagli al cecchino Indicargli il bersaglio E l'altro, paragli anche le spalle Perché mentre il cecchino è lì appostato Che magari ci deve stare ore e ore e ore a aspettare il bersaglio Non vorrei mica che ti arrivi qualcuno da dietro O magari qualcuno arriva alle spalle Quindi gli fa anche un po' da Spotter E sicurezza, diciamo Non guardare il corpo è brutto Quindi il gioco è molto, molto, molto interessante E questi sono i lati positivi del gioco I lati, ora poi nel frattempo vi faccio vedere un pochino di azioni Insomma, ve le faccio vedere montate Nel corso del video Ora, il gioco Per fare un'anticipazione E poi successivamente si fa la chiusura È veramente molto interessante È un gioco dalle immense possibilità È un gioco dove non c'è la stamina Puoi correre quanto cavolo ti pare Non c'è la stamina Il recoil delle armi è bassissimo Quindi non dico che dove spari il corpo va Assolutamente no Però non è un simulatore come arma Quindi tranquillo Puoi correre, fermarti, abbassarti, sparare Un tiballa nel mellamira Ovvio, magari Mitra da postazione Serve che tutti fermi Un po' correre e sparare Quello no Però diciamo che è abbastanza Arcade veloce Quindi alla portata di tutti E il lato positivo È come vi ho detto Se vi piacciono i giochi di squadra Questo gioco è praticamente perfetto Ci è mancato poco Poco, poco, poco Ok, poco Grazie a tutti. Mecca mamma mia, mi ha messo paura. Ho messo paura, ho visto un bel aspettato. Un bel mitrino. Ora si inizia a un po' di ragionare. Un po' di più almeno. No, no, no. Andate la porta, po' di si vede nulla. Qui bisogna reggere la chiesa, penso. Sia questo qui il puto. La vedi? No, no, no. Senta amico mio, se esci ora sono dolori. Eh, te lo dio. Boia, boia. Di ciò l'ha preso tanto. Tu è? Tu sei proprio da scegliere. ecco ed il bello di questi giochi è che sei lì appostato accucciato, stai anche per 20 minuti nella stessa posizione per difende, poi arriva un colpo da non si sa dove, ti piglia, ti ammazza vai per responare non puoi, perché ovviamente il posto è contestato, c'è anche una meccanica, devi cliccare qua giù devi tornare laggiù, ci metti un altro quarto d'ora a piedi per arrivare non sono, non sono giochi tanto immediati per questo dico che il gioco è bello ma non è per tutti e poi cosa ne penso ve lo dico a breve in conclusione Hell Let Lose secondo me è un gioco assolutamente assolutamente non, non, non per tutti, ed è una cosa che mi dispiace perché, torna a ripetere per la ventesima volta, è la via di mezzo, perfetta, perché cerca un mezzo arcade, cioè una via di mezzo fra un arcade e un simulativo però è un gioco che cerca di essere simulativo perché siamo sinceri, è un gioco che cerca di essere poi, secondo il mio punto di vista potete dire cavolate ma per quello che percepisco io che gioco da una vita, giochi di guerra soprattutto in seconda guerra mondiale cerca di essere un gioco simulativo però è ancora troppo arcade perché, ragazzi, qui c'è davvero la gente che corre, si lancia nella trincea e spara col mitra senza mirare, va ammazzati il tuo amico e quello dietro ancora cose che su post scriptum non si vedano anche perché su post scriptum devi bere se non lo recuperi stamina se fai una corsa all'arma, ti si abbassa la stamina quando vai a mirare il fucile fai tutto così, semi ebriao qui c'è gente che ti salta dentro la trincea, spara tre colpi salta il muretto e arriva di là, eh quindi questo è un Battlefield plus di squadra però non è un simulativo cerca di essere un simulativo è un eccellente più bello ancora di post scriptum un gioco di squadra però è ancora troppo arcade quindi devono se loro vogliono fare il gioco simulativo devono cercare di renderlo anche nelle meccaniche simulativo perché se io con un non vado a prendere un car 98 che è un mezzo fucile da sniper ma se io con un Thompson degli americani becco uno a 300 metri sparandoli dritto al petto e lo becco al petto c'è qualcosa che non va effettivamente perché non c'è la caduta del proiettile e tutto quanto e è un po' così è un po' ve lo dite è un po' bozzato come tipo di gioco però ci stanno lavorando sicuramente tanto sopra onestamente onestamente come sempre questo è un canale di cosa ne penso non sono un recensore ufficiale né tanto meno voglio esserlo per me per me soltanto per me non parlo per tutti per me è un gioco che è per una nicchia soltanto quindi se vi siete stufati di Battlefield e arrivate qui tornate su Battlefield ve lo dico anch'io sono tornato su Battlefield e se volete un gioco più simulativo per me forse la fa meglio post scriptum fra tutte e due per tutti i motivi che vi ho detto se cercate un un esperimento per cercare di fare qualcosa che sia una giusta via di mezzo potete provarci però secondo me in tanti punti non ci riesce tanto bene magari più avanti ce la farà e per quanto mi riguarda non è assolutamente il gioco che fa per me perché anche lì corri 70 ore ti ammazzano perché quella al solito far salto ti entra nella trincea tutto quanto devi responare alla base per tornare ti ci rivoli 20 minuti ritorni ti riammazzano e tutto sì è anche vero che in una squadra c'è un giusto capitano un giusto ufficiale che mette la bandierina per terra e ti al momento che vai lì riesci comunque a responare sul posto ne avrò trovati due di capitani che facevano tutte ste cose anche perché cerco di giocare da solo e soprattutto se cercate un gioco la sera da starci un'oretta divertirvi e svagarvi non è il gioco che fa per voi perché la comunicazione via radio è tutta se voi vedete un nemico lo puntate e non date comunicazione anche via proprio orale al vostro team di averlo spottato buona questo fa il giro e vi ammazza tutti quindi non è un gioco alla mano non è un gioco per tutti però è un gioco dalle immense potenzialità che potrà fare la felicità di molti fatemi sapere un po' cosa ne pensate vi lascio il link in descrizione per acquistarlo da steam e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti